Chip Wars, la guerra dei chip, interessantissima. Perché c'è una guerra però? È una guerra commerciale? No, quella tra Stati Uniti e Cina non è una guerra commerciale, è una guerra effettivamente per la supremazia mondiale. Gli Stati Uniti sono perfettamente coscienti che la loro supremazia, diciamo, si è chiarita a tutti all'inizio con la seconda guerra mondiale, si è poi consolidata, visto che c'era un antagonista che era l'Unione Sovietica, si è consolidata con la scoperta del chip, quando negli anni 50 gli americani sono stati i primi a capire che potevano utilizzare dei semiconduttori per fare dei calcoli. Gli Stati Uniti affermano ormai da 60 anni la loro supremazia nell'ambito del processamento dell'informazione. La Russia ha iniziato a perdere quando i computer sono diventati sempre più potenti ed è collassata negli anni 80, che poi se ci pensate non può essere vista come l'unica causa, ma negli anni 80 è quando poi c'è l'invasione dei personal computer c'è una totale trasformazione del business mondiale, Unione Sovietica esclusa. Si iniziano a utilizzare i calcolatori per pensare alla fine, per analizzare. E' questo l'inizio di una, sia pure un vagito diciamo, di intelligenza artificiale. Ancora ci si immagina l'intelligenza artificiale come un uomo, non è un uomo, è come una persona. L'intelligenza artificiale è anche un personal computer. Un'azienda che possiede un mainframe, che possedeva un mainframe negli anni 70, era un'azienda che aveva un vantaggio competitivo enorme perché sfruttava l'intelligenza di un computer che, se vogliamo definire l'intelligenza naturale, quella nostra e degli altri animali, questa è intelligenza artificiale. Basta.